Signori questo è il rama del futuro che vi parla Il video che state per vedere sostanzialmente ha un piccolo problema di audio Praticamente insomma diciamo così l'ambiente non era proprio ottimale Ecco c'è caso un pochino di correggere il più possibile i problemi dell'audio Però diciamo che rimane un po' tipo effetto eco, un po' effetto chiesa ecco Quindi purtroppo chiedo venia Quindi spero che comunque il video sia lo stesso di vostro accadimento E niente, vi lascio alla visione del video Se siete dei gamer non dovete vedere questo video perché questo non è un video per un gamer Signori questa è la configurazione pensata per chi vuole o iniziare o vuole svilupparsi Nell'ambito professionale, nel computer, nel video editing Buon salve, buon salve a tutti signori e bentornati qui sul rama 95 youtube L'unico canale tech dove c'è il latte nella tecnologia Signori benvenuti a tutti e buon salve a tutti Da questa location un po' folkloristica sono qui per portarvi questa configurazione economica Pensata e ideata per chi sta cercando di farsi un pc Per poter fare video editing, foto di toku Insomma tutto quello che per esempio esora da quello che è il gaming Però prima di continuare il video mi raccomando iscriviti al canale Attivate la campagna delle notifiche Vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione Mi raccomando ragazzi siamo vicini a 2.000 iscritti Quindi mi raccomando preparatevi per il pc da 650 euro Quindi robe al caso di sub, robe assurdissime E soprattutto a 5.000 iscritti il video del pc competente a tema mucca Un progetto che ci tengo particolarmente Ormai è sempre più meme, no? PC gaming, PC gaming, PC gaming Però effettivamente col pc non ci si gioca solamente Ma ci si fanno tantissime altre cose Anche i pc che consiglio io Che poi se la maggior parte segue e compra per gaming In realtà hanno la capacità di potersi aprire magari appunto A tutte le altre feature professionali più o meno Che sono disponibili ad oggi per il mercato informatico Quindi i foto di toku, il video editing, machine learning, programmazione Quindi insomma in realtà non esiste il vero computer solo gaming Cioè anche il computer che poi vi è spacciato per gaming In realtà può essere considerato valido e buono per un utilizzo lavorativo Oggi praticamente portiamo questa configurazione che sta sotto i 1.000 euro Che dà il meglio di sé in quell'ambito lì Però in realtà se uno vuole giocare può anche farlo Quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere e procediamo subito Il processore di oggi, così è già tutta spoilerata praticamente la build È l'Intel i5-13400 Praticamente il processore che è presente sulla mucca bench Ed è un processore perfetto per poter fare questi tipi di lavori Perché appunto data la grande quantità di core e di trade esposizione Una buona dotazione di cash Per l'ambito lavorativo di questo genere si presta benissimo Ovviamente potete optare per processori anche più economici o più potenti Però per 259 euro che sta nel momento in cui sto registrando il video Effettivamente si presta benissimo a quel tipo di ambito professionale Ma anche se uno vuole essere utilizzato anche per gaming o quant'altro Insomma non si tira certamente indietro Altro vantaggio che ha questo processore soprattutto è il TDP Particolarmente contenuto rispetto ad altri processori della sua categoria Quindi possiamo utilizzare anche il dissipatore stock già presente nella confezione Oppure se uno vuole Ovviamente un tipo di 30 euro in più potresti portare a casa con dissipatori più che decenti Ovviamente questa è una build che già ve lo dico non è RGB Cioè c'è pochissimo RGB solo limitato al case Quindi proprio fatto apposta per far sì che le persone Che insomma la persona che ci deve lavorare non è che ne sta a vedere il PC RGB È più pensata per... deve essere prestazionale Il processore lo alloggiamo su una scheda madre di chipset B760 Quindi una buona scheda madre L'Asus Prime B760M A Wi-Fi DDR5 Quindi Micro ATX DDR5 con Wi-Fi Quindi praticamente abbiamo tutto quello che può essere di utile che è compatta Infatti il case può essere un Micro ATX Quindi anche in uno studio che non ha particolarmente spazio Risulta essere molto molto pratica E poi soprattutto DDR5 per... visto che in quei certi applicativi In DDR5 sono molto... diciamo così... avvantaggiati rispetto a DDR4 In più abbiamo Wi-Fi per garantirci la mobilità Nel senso che in uno dei mali dipende da un powerline o da un cavo LED Nel caso appunto uno non ha questa particolarità può tranquillamente farne a meno e attaccarsi quel Wi-Fi Oppure in più uno ha a disposizione anche il Bluetooth che a lato pratico può essere utile in campi Per esempio come può essere il Direct Share Quindi praticamente potete trasferire in Direct Come può essere appunto tramite iPhone, tramite smartphone, tramite device Potete trasferire i dati nella combo Wi-Fi più Bluetooth Per avere un trasferito rapido di certi tipi di file Soprattutto appunto per chi deve lavorare video, foto, eccetera Non è certamente la scala madre migliore che si può trovare sul mercato Però a 160€ con tutte queste feature inizia a essere particolarmente interessante Poi insomma per gestire un 13400 va benissimo, va alla grande Possiamo anche permetterci di mettere anche un 13500, un 13600 Ovviamente qui perdete la feature degli overclock Però per quanto riguarda l'utilizzo di un processore come il 13400 siete praticamente imparati Le RAM quindi in questo caso è la scelta obbligata DDR5 ho scelto un kit equilibrato senza RGB Non troppo sfarzoso Ovvero le G-Skill RipJaws 32GB, due banchi da 16, 6400 CL32 Quindi un ottimo kit In questi applicativi fa la differenza avere un buon rapporto tra frequenza e latenza Conta più qui che in game Quindi prendiamo un vai kit di RAM che sappiamo portarci indietro nel tempo Che possiamo portarci poi nel tempo anche in caso di upgrade E per questa scheda madre alla fine va benissimo Poi lo storage io avevo messo un terabyte Sicuramente chi fa questo lavoro in maniera professionale magari avrà anche un NAS esterno in cui depositare i suoi lavori Quindi diciamo che ho lasciato un NVMe che faccia da NVMe principale più che altro per l'elaborazione del prodotto E poi presumo che il prodotto verrà messo su un NAS Qualcosa appunto in cui vada a fare appunto da archivio di queste cose in maniera esterna Infatti in questo caso ho scelto il Netac NV5000 da un terabyte 4.0 Non è il più veloce, non è il più performante Però non è di RAMless Quindi ha un controller Ha il chip di RAM Quindi è stabile Non si va a impappinare in lettura e scrittura randomica È già dotato di dissipatore Quindi non c'è bisogno di Si dice il dissipatore della scheda madre Però è già pronto È compatibile per chi fosse interessato con PS5 E ovviamente ora 69,99 ma in realtà c'è disponibile oggi un coupon del 20% Prende 55 euro più spiccioli importi a caso di una nuova mica Insomma tutto sommato è molto interessante come prestazione Molto molto interessante Per quanto riguarda l'alimentatore Ora purtroppo come sapete c'è molta carenza di questo componente sul mercato In questi casi sceglierei più un 80 plus gold Perché presumo che sia un pc che sta acceso almeno 10 ore al giorno Purtroppo gli 80 gold costano uno stonfo E quelli che poi tu trovi non sono poi alla fine adeguati come potenza per la build Quindi in questo caso ho optato per un P650B di gigabyte il classico evergreen 80 plus bronze Non è modulare quindi c'è il problema dei cavi e tutto il resto Però magari se vi capitasse come è successo più di una volta Chi dà la Spagna vi capita il Night FGF Evo a 53 euro Preferite quello Perché al di là che della modularità dei cavi è un 80 plus gold La piattaforma è un po' superiore Quindi preferisco più prendere un'alimentatore che magari a livello di costo beneficio Sarebbe più interessante La scheda video che giustifica la presenza del processore con la grafica integrata Intel Arc a 750 Non ha bisogno di presentazioni In questo caso abbiamo la custom di Asrock e la Challenger A 237 euro quindi un prezzo molto interessante Non è il più basso in assoluto della Intel Arc Però è sicuramente interessante E appunto parlando appunto di Intel Arc e di grafica integrata del processore Questo viene molto in conto alle esigenze di chi fa appunto video editing, fotoritocco eccetera Anche live di Just Chatting, podcast e quant'altro Perché appunto grazie alla tecnologia Deep Link è possibile far lavorare in parallelo grafica integrata e Intel Arc Per avere più prestazioni e meno sgravo ok solo sulla scheda video dedicata Quindi è possibile essere più veloce, avere più performance con un hardware praticamente inferiore Cioè io vi ricordo che la Intel Arc 750 in Deep Link con l'integrata del mio 139SK È risultato ad essere più veloce in editing dello stesso video di una 6900XT Giusto per farvi capire un attimo di cosa stiamo parlando come scheda video È vero che non si parla di grandi differenze in termini di numeroni Però il fatto che una combo del genere di una scheda video che alla fine della fiera A livello di computazionale la 6900 è decisamente più potente In ambito editing grazie al Deep Link è possibile essere più veloci di una 6900XT Quindi per chi più veloce e meglio è Questa insomma effettivamente è un'ottima soluzione pratica per tante realtà Il tutto lo mettiamo nel case come vi ho già detto MicroTX Il classicissimo TechWare 4 Gm2 che oltretutto è sceso di prezzo perché odio teniamo 46€ praticamente Cioè ormai ve lo stanno regalando E per 46€ abbiate un PC piccolino Il case esteticamente è carino cioè i led RGB Quello che insomma va bene delle vento Perché vabbè per chi lavora magari non gliene frega niente e le tiene spente Per chi invece magari può essere carino magari quello può far vedere il mano sotto che c'è il PC figo E' piccolino quindi si presta a chi magari non ha un grande studio Magari anche chi lavora in casa Magari non ha uno spazio enorme Una stanza tipo la mia vecchia camera Un PC del genere effettivamente si ti permette di avere tanta potenza Nel poco spazio Con un case che alla fine è bello areato Facile da utilizzare E insomma ci ho fatto anche un video Quello che ho praticamente recensito questo case E' veramente pratico anche nel montaggio Il tutto di questa build è praticamente alla fine dovrà girarsi intorno ai 9,60€ 960€ prende meno di 1000€ per un PC Per poter fare video editing di qualsiasi tipo Lo c'è di risoluzione Foto ritocco Streaming e podcast Volete giocare? Volete giocare Programmazione Macchie virtuali Insomma questo si presta praticamente a un sacco di usi Io oggi ve l'ho presentato come PC per chi vuole fare video editing Ma in realtà praticamente il limite di un utilizzo di questo PC è semplicemente l'hardware Perché dovete utilizzare in maniera realistica un PC di questa tipologia E due è la vostra limitazione di uso Quindi potete utilizzarlo con qualsiasi cosa Potete usarlo come macchina Linux ma anche Cioè veramente potete farci un sacco di cose Non si parla neanche di una build straconsumosa Perché comunque è vero che la Intel Arc non è una scheda video che consuma poco Sono circa 250W di consumo Però il processore lo so vedete che vi consuma massimo 80W In un ambito realistico Quindi non è una build che scalda Non è una build che consuma Quindi 650W dell'alimentatore vi lasciano comunque anche margine Per poter magari un domani aumentare il processore Magari con la serie 14000 che è uscita O prendere una scheda video più potente Parlando invece di eventuali alternative Io vi consiglio nel caso in cui volete proprio risparmiare Se voi vuole la cinghia Potete fare downgrade passare a un Intel Arc 380 con un 12400 Ovviamente le prestazioni cambiano radicalmente Però se volete fare un PC per editare in maniera entry level Che mai volete imparare ma non volete spendere un sacco Prendete il 12400 che lo risparmiate Tipo risparmiate circa 100W dalla scheda del processore Prendete l'A380 che ne risparmiate praticamente altre 100W Quindi con 200W meno fate un PC proprio base 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 Prendete 16GB di RAM Prendete le DDR4 Quindi risparmiate magari altri 70€ dalle RAM Quindi insomma vabbè Ovviamente quello dipende un po' da voi Nel caso volete fare invece un po' di più Potete prendere l'A770 Magari una versione 16GB per avere un po' più di prestazioni Lato scheda video che possono o non possono fare il buono e il cattivo tempo Però io vi dico come esperienza con l'A750 sono più che soddisfatto Per averlo dato due mesi e aver comunque editato video e streamato in live Quindi io non mi posso lamentare sotto questo punto di vista Quindi l'A750 per me dal mio punto di vista come content creator Secondo me ci sta alla grande per tantissime realtà Signori il video conclude qui Fatemi sotto commenti cosa pensate Commentate e condividete E noi ci vediamo la prossima video Ciao